Ciao a tutti, oggi prepareremo il centrifugato detox. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono finocchi, sedano, acqua, mele verdi e limone pelata al vivo. Diamo via la ricetta. Mettiamo all'interno del boccale le mele verdi, i finocchi e i gambi di sedano. Facciamo frullare per un minuto a velocità a 10. Adesso con l'aiuto di una spatola andiamo a riunire sul fondo. Adesso versiamo il limone pelata al vivo, l'acqua. E facciamo frullare per 30 secondi a velocità 10. Il nostro centrifugato è quasi pronto. Andiamolo a filtrare con un collino a maglie strette. Centrifugato detox. Grazie e alla prossima ricetta.